Giuseppe Mattioli, la sinistra per Perugia. Quale sinistra per l'Umbria e per Perugia? Noi diciamo che oggi c'è bisogno di sinistra. Che cosa vuol dire? Prima di tutto diamo un giudizio su questa amministrazione comunale che sta fallendo miseramente. Perugia è impoverita, è sporca, riportano il traffico nel centro storico creando confusione e disagio fra i cittadini. Ci sono le buche, i servizi sociali sono deficitari. Cioè praticamente un peggioramento, un impoverimento di tutta la città. E allora? Noi crediamo che oggi è rinata l'esigenza di riproporre lo sviluppo produttivo, sociale e culturale di questa città. E solo le forze di sinistra che anche nel passato hanno dato risposte innovative di progresso possano portare avanti questa cosa. Pertanto una sinistra moderna che faccia da interpreta i bisogni della gente, che rientri in sintonia con la propria gente e che tutti insieme prospettino un programma di rinnovamento culturale e politico di questa città. Grazie. Grazie. Grazie.